Emanuele Schillace a Campobasso anche se non partecipi al campionato italiano grazie a Fabio Emanuele al quale ti lega una grande amicizia Sì, grazie a Fabio siamo riusciti a fare questa caretta anche con il team Nolè, con Saverio Miglionico che mi ha dato la macchina, che è uno sella e niente, sono qui, la strada è bella e l'organizzazione è anche poi è un piacere venire qui, mi sento a casa Adesso stai seguendo da spettatore il tricolore, come lo giudichi? Guarda, come prima gara noto che c'è molto più organizzazione in confronto agli anni passati, c'è molto più severità tra le parti dei commissari è tutto ed è una cosa che distingue questa disciplina Per il futuro, mi dicevi a microfoni spenti, stai sistemando la tua Radical tornerai nel tricolore? Sì, speriamo di sistemarle il prima possibile e di tornare nei campi di gara Fabiano Di Cesare è affezionato dello slalom città di Campobasso ma più in generale del nostro Molise a bordo della bellissima 126 motore moto che vediamo qui nelle immagini, manifestazioni di grande livello Sì, è sempre una bellissima gara qui a Campobasso non perché sono del Molise ma è un tracciato che veramente mi piace molto abbiamo fatto adesso la prima mancia, non è andata delle migliori speriamo nella prossima di andare molto meglio Quali sono per questa stagione i tuoi programmi? I programmi vediamo gara dopo gara perché l'anno scorso ho provato a fare il campionato italiano e per poco non ci sono riuscito quest'anno non ce la facciamo e facciamo gara per gara, volta per volta e vediamo Manifestazione di livello anche per quanto riguarda gli iscritti tanta qualità e questo accresce il valore della manifestazione Sì, a Campobasso facciamo sempre molti partecipanti molti iscritti perché vengono da tutta l'Italia nonostante il campionato italiano è una bellissima gara come ho detto prima Franco Sierago in lizza al trentesimo slalom città di Campobasso 126 motore moto sempre affezionato, sei di casa come sta andando? Sta andando bene, è un po' scivolosa la pista però tutto il resto diciamo ci stiamo iniziando a divertire man mano che andiamo avanti riusciamo a abbassare un po' i tempi speriamo che il tempo mantiene è una bella manifestazione più di tanto che cosa dobbiamo dire? Bocca al lupo a tutti quanti cerchiamo di divertirci al massimo Grazie Per quanto riguarda i tuoi programmi questa stagione quali sono? Di farci qualche cosa l'amonisi a fare il campionato però ancora non siamo proprio pronti per andare un po' da perci ci vuole tempo un po' di tutto organizzazione e tante cose però quest'anno ci facciamo 6 o 7 gari e poi proviamo l'anno prossimo a fare il campionato Appassionato, stai seguendo questo campione d'italiano? Sì, sì, sì dovevamo andare in Sicilia però abbiamo avuto problemi e partiamo con questa qua però non lo facciamo non lo portiamo a termine il campionato quest'anno C'è stato qualche cambio di regolamento diciamo come è cambiata la stagione? Cambiata con qualcosetto in più vicino alle macchine solo quando riguarda la sicurezza ed è ben venga perché più sicuri siamo e più andiamo nel cerchiamo di andare più veloce tutto qua cerchiamo di andare al massimo grazie a tutti grazie a tutti